Un'intensa fase di maltempo ha interessato la Liguria, importante il quantitativo di pioggia caduto nell'entroterra, esondato alla foce il fiume Entella. Su 374 casi di inadempienza tra i 0 e i 6 anni, solo un terzo si è messo in regola con gli obblighi vaccinali. I dati dell'Asle 4, che conferma comunque per il Tiguglio il raggiungimento della soglia del 95% della copertura. 83 persone ascoltate, 18 aiutate economicamente, fondi quasi raddoppiati. La fondazione anti-usura Santa Maria del Soccorso ha diffuso il report 2017 per la diocesi di Chiavari. L'ex asilo Rocca di San Salvatore di Cogorno ospiterà anziani autosufficienti ma bisognosi. Partiti i lavori e la vecchia struttura, la spesa sarà in parte coperta dalla donazione di un cogornese. Aldo Moro e Peppino Impastato, accumunati dalla voglia di giustizia e libertà nel rispetto della Costituzione. Il loro esempio è raccontato ai ragazzi dell'Istituto Nat De Ambrosi di Seste Levante. Giro di vite contro gli agenti immobiliari abusivi. Firmato a Chiavari l'accordo con la FIMA per colpire chi si improvvisa mediatore senza averne titolo. Giornata del Fiocchetto Lilla per conoscere i disturbi del comportamento alimentare alluzzate di Chiavari con fronte a più voci. Il primo passo, dicono gli esperti, è confidarsi. A Chiavari radunati i vertici della Federazione Italiana Scherma. La formazione azzurra ai mondiali di Verona, al centro dell'incontro, tra i campioni presenti Valentina Vezzali. Presentato il progetto Tiguglio Crea Impresa, si rinnova e si amplia l'iniziativa promossa da WayLab per cercare e sostenere nuove idee imprenditoriali. Entro il 6 aprile si possono presentare le proposte. Pronto al debutto il nuovo sistema di pronotazione unico regionale per visite ed esami. Il passaggio dal vecchio al nuovo CUP avverrà tra il 24 e il 27 marzo. Il punteruolo rosso sta falcidiando le palme del Tiguglio, possibili trattamenti sulla chioma per debellare il parassita. Giovani e lavoro, convegno a Chiavari promosso dalla Diocesi su un campione di 683 studenti. È emersa una realtà dinamica, con idee e progetti spesso non supportati da mezzi adeguati. Sesto rilevante nei prossimi giorni la conferenza dei servizi per il rafforzamento della scogliera alle gallerie di Sant'Anna. Intanto il comune avvia il ripascimento di tutti gli arenili. Quinto anniversario dall'elezione al soglio di Pietro e di Papa Francesco. Molti messaggi benaugurali. Benedetto XVI ha inviato una lettera personale sulla continuità tra i due pontificati. Un saluto a tutti e bentrovati all'appuntamento con il Tg guardando la settimana, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tiguglio negli ultimi 7 giorni. Iniziamo dalla giornata di lunedì, si è fatto un bilancio dell'ondata di maltempo che lo scorso fine settimana ha compito il nostro territorio. Tante le piogge abbondanti, soprattutto nell'entroterra, la foce del fiume Intella che ha registrato una lieve esondazione del fiume. Tutto questo nel prossimo servizio. È stato l'entroterra, in particolare la Val Fontana Buona e il bacino del Magro nello spezzino, il territorio della Liguria maggiormente interessato dalle precipitazioni portate dalla perturbazione che ha interessato la regione nelle ultime 24 ore. Una pioggia solo a tratti intensa, ma la cui continuità nel tempo ha fatto registrare accumulate importanti, al di sopra dei 100 mm, con punte di 140-160 registrate dalle centraline meteo dell'Alta Valle. Se sulla costa dunque l'ondata di maltempo è passata senza creare particolari disagi, in realtà il quantitativo d'acqua caduto complessivamente è stato significativo. A confermarlo, il livello dei corsi d'acqua, che pur rimanendo nei limiti di guardia, si sono ingrossati considerevolmente. Così, se il torrente Lavagna è andato vicino all'esondazione a San Colombano-Certenoli, è stato il fiume Entella ad uscire dagli argini nella parte finale della foce, allagando la zona golenale di Chiavari, il parco Renzi e il sottopasso di via Tito Groppo, che è rimasto chiuso al traffico per tutta la giornata di domenica. Tornando all'entroterra, sono stati diversi gli smottamenti e le frane che hanno interessato la viabilità comunale e provinciale. A Levi, una frana si è staccata su un versante della Provinciale 32, in località Crocetta, poco prima della scuola elementare. Il materiale ha parzialmente occluso la strada, ma il transito è comunque garantito dalla presenza di un semaforo. A Carasco, una piccola frana si è riversata invece sulla strada comunale di via Condurli, tra la sede dell'ATP e il camping. Il materiale è stato rimosso in serata grazie ai volontari della protezione civile, con la collaborazione dei carabinieri e l'intervento di un mezzo meccanico. Un piccolo movimento franoso ha interessato nella tarda serata di ieri anche la strada comunale di Vignale, in via Antonio Giuseppe Norero a San Colombano-Certenoli. Il movimento ha interessato la carreggiata al punto da limitarne quasi il transito. Anche ad Avegno la caduta di alcuni massi hanno ostruito la viabilità in località Pietrafitta e sono stati rimossi questa notte. In mattinata lentamente il fronte perturbato ha lasciato la regione, con gli ultimi strascichi localizzati ancora una volta nell'entroterra. Un passaggio tipicamente primaverile, secondo gli esperti. Domani e mercoledì si attendono due giornate nel complesso godibili e temperate, ma una nuova perturbazione è dietro l'angolo. Giovedì arriverà un nuovo fronte che porterà ancora importanti precipitazioni. Parliamo adesso di vaccini. Si è fatto un bilancio per quanto riguarda l'ASL4 per la fascia dai 0 ai 6 anni di coloro che si sono effettivamente messi in regola, che non risultavano adempienti alla data di inizio settembre e che hanno avviato il percorso di regolarizzazione. Solo un terzo di questi 374 casi lo hanno fatto. Questo però ha permesso anche al nostro territorio di superare la soglia del 95% di copertura vaccinale della popolazione. Vediamo il servizio. Su 374 casi di inadempienza nella fascia di età compresa tra gli 0 ai 6 anni, situazione fotografata dalla ASL a giugno dello scorso anno, solo un terzo si è messo in regola con gli obblighi vaccinali a marzo 2018. Sono circa 250 i soggetti che, nonostante l'obbligo introdotto dal decreto Lorenzin, continuano a non voler vaccinare i propri figli. E questa è la fotografia che inquadra la situazione del Tiguglio per la fascia di età che non prevede l'obbligo scolastico, ma riguarda asili nido e scuole materne. Inutili al momento i tentativi di recupero messi in campo dall'azienda sanitaria locale. Pur presentandosi ai colloqui prenotati con la lettra inviata a ottobre, condizione comunque necessaria per essere ammessi alla frequenza dell'asilo, i genitori non hanno dato seguito all'avvio del percorso vaccinale previsto per i loro figli. A giorni per loro scatterà la seconda fase del piano messo in campo dalla Regione. Si darà ancora una chance, noi iscriveremo a tutte queste persone, alle famiglie dei bambini che risultano ancora in addempienti, questa volta con una raccomandata, con ricevuta di ritorno, in maniera da formalizzare l'intervento, invitando per una terza volta a regolarizzare la situazione. Qualora ovviamente le famiglie non aderissero a questo invito e ovviamente non ci fossero anche dei motivi ostativi alle vaccinazioni, cosa che può chiaramente succedere, noi chiaramente comunicheremo i nominativi di inadempienti alle scuole per il seguito di competenze e quindi per quanto contenuto nella legge. Arrivati a questo punto, e si parla ormai quasi certamente del prossimo anno, la palla passa agli istituti che dovranno mettere in campo le azioni che la Regione indicherà loro. Tra le ipotesi c'è anche l'esclusione della frequenza. Alle ASL spetterà invece il compito di elevare le sanzioni amministrative previste. Il bicchiere nel Tiguglio comunque resta mezzo pieno, il territorio partiva da un dato importante di irregolarità rispetto agli obblighi vaccinali. Adesso, con la campagna avviata a ottobre, si è quasi superata la copertura del 96% di tutta la popolazione. Il recupero che abbiamo fatto, e sembrano pochi, 120, sono quei due o tre punti percentuali che ci hanno permesso di arrivare a coperture molto elevate, di gran lunga superiore a quelle registrate in Italia. Siamo così arrivati al telegiornale di mercoledì, abbiamo parlato della fondazione anti-usura, un bilancio dell'attività 2017 per quanto riguarda il territorio della diocesi di Chiavari, con numeri importanti per questa realtà. Li vedremo nel prossimo servizio. Andremo a vedere anche i lavori che sono iniziati all'ex asilo di Cogorno, dove si sta realizzando un centro per anziani. E parleremo poi dell'incontro che c'è stato al De Ambrosis Natta di Seste Levante. Gli studenti hanno avuto modo di conoscere la vita e l'operato di due figure importanti come Aldo Moro e Peppino Impastato. Vediamo i servizi. 83 persone ascoltate, 18 aiutate economicamente, fondi quasi raddoppiati. La fondazione anti-usura Santa Maria del Soccorso ha diffuso il report 2017 per la diocesi di Chiavari. I numeri rappresentano una crescita. Le persone che hanno ottenuto un sostegno economico sono stati 18 contro le 13 del 2016. Negli anni è salito il numero degli ascolti, dai 59 del 2010 agli 83 del 2017. Infine il boom dei fondi erogati, dagli 81.000 euro ai 158.823 euro dell'anno scorso, più 96%. Livelli mai toccati in precedenza, anche se l'aumento dei contributi non va in parallelo con l'aumento delle persone che si sono rivolte allo sportello di Via Vinelli. Di conseguenza è salito l'importo medio dei prestiti concessi, da 6.235 a 8.823 euro, più 41,6%. In cinque anni l'aiuto accordato in media agli assistiti è più che quadruplicato dunque. Nel 2012, ad esempio, l'aiuto per persona era di 2.128 euro. Tuttavia questa tendenza denota persistenti e gravi difficoltà, che colpiscono soprattutto italiani, in maggioranza tra i richiedenti aiuto, ma anche stranieri. Persone prese in carico dalla fondazione, insieme a Caritas, parrocchie e ai servizi sociali dei comuni. In molti casi, infatti, le vicende sono talmente complesse da richiedere più di un interlocutore. I prestiti vengono accordati a tasso agevolato. Negli ultimi anni, però, benché la mission della fondazione non sia di tipo assistenziale, in alcuni pochi casi straordinari, supportati da solide motivazioni e da specifica documentazione, sono stati erogati piccoli contributi a fondo perduto, cioè senza chiederne il rimborso. Infine, per il 2017 vengono confermate le situazioni più classiche di crisi di chi si avvicina allo sportello anti-usura, dal mancato pagamento di affitti e spese condominali all'impossibilità di pagare le spese connesse al cambio di alloggio, ritardi nel pagamento di utenze a causa di precarietà, redditi di lavori insufficienti o bilanci familiari compromessi da divorzi, carenze gestionali, malattie e gioco d'azzardo. Fervono i lavori al vecchio asilo Rocca di San Salvatore di Cogorno. La casa, del 1924, diventerà struttura residenziale per anziani autosufficienti ma in difficoltà economica. Per la fondazione GB Rocca è un sogno che inizia a diventare realtà. Ad intervento ultimato saranno accolte tra le 16 e le 18 persone. La spesa si aggira sui 500.000 euro. Come pensate di coprirla? C'è un lascito che è stato fatto alcuni anni fa, un lascito vignolo, che ha dato alla fondazione che è nata soltanto per i bambini e per l'asilo, il compito di occuparsi anche degli anziani. Noi abbiamo pensato di impiegarli così, non con una casa di riposo, non ci sarebbero state le possibilità e le capacità, ma l'accoglienza di persone magari che sono rimaste sole e povere con un ISEE che non permette né l'affitto né il potersi comprare una casa. Il progetto prevede stanze da 20 metri quadrati, ciascuna con il bagno. Ad oggi si sta costruendo un'ala aggiuntiva al piano terra. Sarà preservato il grande giardino esterno. L'idea è quella di uno o due campi da bocce che qui a San Salvatore mancano e poi sotto questa parte ampliata, il salone, il posto comune per consumare i pasti, il posto comune dove incontrarsi tutti i pomeriggi, gli anziani che vorranno venire qua a giocare a carte, giocare a tombola, quello che si vuole. Supportati chiaramente anche da alcuni volontari della parrocchia che non vedono l'ora di poter cominciare a stare con le persone di San Salvatore. La residenza per anziani è l'ultimo tassello di un legame sbocciato a San Salvatore di Cogorno e dal borgo custodito. Dal primo l'ascito Rocca che permise di avviare un asilo nella vecchia casa novecentesca all'impegno di Don Marcello Botto che dal nulla e con poche lire costruì sulla proprietà il nuovo asilo che oggi ospita 120 bambini del territorio per arrivare al più recente l'ascito Vignolo. Questo è un po' il segno dell'impegno per le persone che non dico mi sono affidate ma ci sono affidate perché la comunità è una responsabilità di tutti e questa responsabilità vogliamo prendercela fino in fondo. 9 maggio 1978. Questa è la data che accomuna due grandi figure nella ricerca della verità e giustizia Aldo Moro e Peppino Impastato. A raccontare le loro storie la figlia dello statista rapito e ucciso dalle Brigate Rosse Agnese Moro e il fratello del giornalista siciliano assassinato dalla mafia Giovanni Impastato. I ragazzi delle classi quinte dell'istituto natta di Sestri Levante hanno avuto modo di ascoltare la storia di due persone con percorsi di vita differenti uniti dal ricordo del giorno della loro morte ma anche dalla passione per verità e giustizia. Tra i temi affrontati anche con spezzoni di film l'attualità di queste figure, il coraggio e l'impegno politico, un confronto tra la mafia di oggi e quella di un tempo. Qual è l'attualità del messaggio di Peppino per i giovani di oggi? Il messaggio di Peppino è attualissimo per le sue battaglie che portava avanti, le battaglie ecologiche per la salvaguardia della bellezza del territorio, il suo impegno antimafia, la comunicazione. Un'altra cosa è la rottura non solo col contesto, con la società dove lui ha vissuto ma soprattutto con la propria famiglia, una famiglia di origine mafiosa. Aldo Moro e Peppino Impastato, due persone diverse, idee politiche diverse ma a 40 anni dalla loro morte, da che cosa sono accomunati? Idee politiche completamente diverse, anche come persone diverse Moro era una figura istituzionale, Peppino no, era uno che portava avanti le battaglie sociali, però erano un po' accumunati da quella voglia di giustizia e di libertà, soprattutto nel rispetto della nostra Costituzione. Cioè Moro era una persona molto sensibile da questo punto di vista, che ha aperto un dialogo con forze politiche che appartenevano a culture diverse. Peppino Impastato allo stesso modo era riuscito pure ad aprire un dialogo del genere. E' stato firmato a Chiavari un accordo tra il Comune e l'Associazione Agenti Immobiliari che punta sul prevenire e contrastare il fenomeno degli agenti immobiliari abusivi. Verranno anche messi a disposizione dei vigili urbani per controllare ed effettuare verifiche proprio sul campo. Parleremo poi della giornata dei disturbi alimentari, il cosiddetto giornata del Fiocchetto Lilla con un incontro che si è svolto al Liceo Artistico Luzzati di Chiavari. E poi la scherma, perché si è radunato a Chiavari il Consiglio federale della Federazione Scherma Italiana tra i presenti e anche la campionessa Valentina Vezzali. Vediamo i servizi. Il nostro obiettivo è quello di tutelare i nostri cittadini che in questo caso diventano consumatori e quindi hanno bisogno di essere tutelati. Ma soprattutto è quello di invitare chi eventualmente dovesse fare questa professione in modo illegale a mettersi in regola con quanto va fatto. Viene coinvolta la Polizia Municipale in che termini? Viene coinvolta perché la Polizia Municipale può fare questo tipo di controllo essendo che dal primo di marzo il reato non è più un reato solo civile ma è un reato penale al secondo arrivo del controllo è un reato penale ovviamente la Polizia può fare questo controllo e comunque come il nostro vigile può entrare in un qualsiasi esercizio e chiedere di vedere la licenza per vendere qualunque tipo di cosa può farlo per chiedere a chi esercita la nostra professione di mostrare la propria iscrizione. Una delle cose che chiederemo è che diventi veramente obbligatorio esporre all'interno dell'agenzia o addirittura sulla targa di ingresso il numero di iscrizione al ruolo. Chiavari comune capofila di questa intesa che però mira ad essere estesa tutto il Tiguglia. Assolutamente. Questo accordo ha sicuramente come prossimo passaggio quello di estendersi sul territorio e quindi Rapallo, Santa Margherita, Recco per finire con un incontro col sindaco di Genova che speriamo anche lui recepisca questo desiderio questa voglia di fare pulizia soprattutto approfittando dell'inasprimento delle sanzioni che è cominciato dal 15 febbraio scorso. Come mai la scuola ha deciso di aderire e di proporre l'iniziativa del Fiocchetto Lilla? La scuola non poteva non restare indifferente alle tematiche legate all'alimentazione e ai disturbi dell'alimentazione ora c'è una particolare sensibilità da parte nostra che deriva dal contatto quotidiano che abbiamo con i ragazzi e quando queste problematiche si presentano all'interno delle classi tra i ragazzi ci sono poi anche delle ripercussioni a livello relazionale a volte anche nel profitto e lo abbiamo fatto in collaborazione con l'associazione Shasta con l'ASL con tutti coloro che sul territorio sono sensibili e attenti a queste dinamiche. Tra gli argomenti che presenterete viene paragonato una farfalla a un elefante come mai questi due animali? Ecco, più che un paragone direi che è una sensazione molto del disturbo alimentare deriva da una percezione o meglio da una dispercezione spesso la ragazza parte proprio da un'idea e spesso la sensazione è appunto mi sento un elefante e vorrei diventare però una farfalla la farfalla è un po' un simbolo un simbolo di trasformazione, di liberazione di leggerezza in realtà molto spesso diventa diciamo una strenua ricerca ad una sottigliezza che nulla ha a che fare con la bellezza diciamo di entrare nella vita in una certa forma proprio leggeri ma diventa invece la voglia di scomparire. Qual è il vostro consiglio alle famiglie? Quello di non chiudersi quindi di chiedere aiuto e di non avere soprattutto vergogna perché sono malattie non c'è assolutamente bisogno e necessità di provare vergogna e soprattutto nessun senso di colpa perché non c'è nessuna colpa se il bambino o la bambina il figlio rifiuta il mangiare. Presidente come mai questo consiglio a Chiavari? Per testimoniare la vicinanza autentica autentica, vera, immediata da parte del Consiglio federale verso la base che noi consideriamo non periferia ma base su cui si fonda l'attività della federazione italiana scherma e Chiavari meritava questa attenzione. C'è un punto importante che tratterete appunto in questo consiglio? Ma abbiamo alcuni punti ma fondamentalmente quella è la composizione della squadra che andrà a rappresentare l'Italia la prossima campionata del mondo a Verona. Voi avete un sogno della Chiavari scherma? Ma sicuramente un sogno che percorriamo da tanti anni che rincorriamo da tanti anni e abbiamo organizzato tanti eventi spero che finalmente la città di Chiavari ci sia riconoscente ma più che altro che capisca il valore effettivo che un impianto sportivo possa dare alla città. Il fatto di riuscire ad avere un impianto sportivo per noi è fondamentale per organizzare in futuro nuove manifestazioni. Dalla pedana a una scrivania Da atleta ho raggiunto tantissimi traguardi mi sono sempre posta degli obiettivi ad ogni fine c'è sempre un inizio ad ogni inizio c'è sempre una fine ed ora mi ritrovo dall'altra parte ho scelto di seguire la carriera dirigenziale ed ho la possibilità di poter vedere che cosa c'è dietro tanti successi. Non a caso oggi siamo qui a Chiavari a disputare il Consiglio federale che designerà gli atleti giovani e cadetti che a breve avranno il campionato del mondo proprio qui nella nostra Italia a Verona e che rappresentano il futuro una federazione che è attenta alle problematiche delle varie società. Che squadra azzurra state costruendo? La squadra azzurra è un innesto di veterani e di giovani e forse è questo il segreto vincente della scherma italiana la scuola fa scuola e i campioni fanno i campioni. Si rinnova si amplia cambia nome il progetto lanciato lo scorso anno da YLab per sostenere le idee imprenditoriali Chiavari Crea Impresa diventa Tiguglio Crea Impresa e coinvolge tutti i comuni del nostro comprensorio nei giorni scorsi appunto la presentazione. Parleremo poi del nuovo sistema unico di prenotazione per visite ed esami che verrà implementato e reso operativo il prossimo fine settimana tra il 24 e il 27 marzo e poi parleremo del punteruolo rosso il coleotero che sta infestando e mettendo a rischio la presenza di palme anche nell'Ettiguglio esistono metodi per contrastarne la diffusione vedremo tutto questo nei prossimi servizi. Si sta lavorando anche su quello che è stato il risultato dello scorso anno a che punto siamo? Sì allora l'anno scorso il contesto era più ristretto si chiamava Chiavari Crea Impresa e sicuramente l'iniziativa che ha avuto più successo è stata Book Your Beach che è stata la vincitrice della categoria food e turismo dell'anno scorso che viene riproposta anche quest'anno ha vinto la categoria regionale ICT nello Startup Contest Smart Cup e ha fatto le finali nazionali a Napoli quindi sicuramente un ottimo risultato per una realtà che è nata proprio a Chiavari crea impresa Quest'anno quante le categorie in gara? Quest'anno le categorie in gara sono cinque quindi abbiamo esteso un po' il panorama rispetto all'anno scorso che erano quattro abbiamo esteso anche diciamo l'interesse geografico dell'iniziativa che si sposta da Chiavari e coinvolge tutti i comuni del Tigullio per questo oggi siamo qui a Portofino perché parte da qui e il tour finisce a Sestri Levante con la premiazione finale Si parte con una novità è che è stata creata un'associazione l'associazione si chiama Tigullio Crea Impresa nella quale fanno parte innanzitutto i giovani founder e amministratori delle start up che sono state in Y-Lab fin dall'inizio dal 2016 fanno parte dell'associazione Matteo Campodonico Marco Lanata anche Maria Chiara Maggi e sono disponibili appunto a supportare questo percorso di crescita altri ragazzi Già lo scorso anno erano state tante le adesioni al progetto alla fine poi le imprese che sono partite sono state selezionate una ventina quest'anno su cosa si punta? Sì sì quest'anno si punta sempre sulla creatività perché c'è una parte ovviamente di imprese di design legate al turismo legate ovviamente all'artigianato di più tipo innovativo con un modello che ormai è ampiamente codificato e strutturato da parte del Politecnico di Milano è un progetto di design thinking per passare dall'idea all'impresa Sarà pienamente operativo martedì 27 marzo il nuovo sistema di prenotazione unico per la Liguria la rinnovata piattaforma informatica secondo step del progetto nuovo CUP sarà messa in rete tra il 24 e il 26 marzo successivamente verrà abbandonato l'attuale sistema progettato 20 anni fa e ormai obsoleto per offrire ai cittadini un nuovo servizio più semplice veloce ed efficiente in grado di garantire libertà di accesso e anche determinare in prospettiva un abbattimento delle liste d'attesa grazie alla possibilità di effettuare le prenotazioni su tutte le strutture sanitarie del territorio regionale l'utente infatti attraverso il numero verde unico regionale 800 098 543 già operativo dal giugno scorso avrà un unico interlocutore per tutta la regione e potrà prenotare visite ed esami nella propria ASD di appartenenza o in altre ASD in base alla disponibilità di posti liberi con tempi più brevi le operazioni tecniche necessarie alla migrazione inizieranno alle 18 di venerdì 23 marzo con il trasferimento delle base dati delle ASD e con la contestuale interruzione di tutte le attività connesse all'utilizzo del sistema CUP e dei servizi adesso integrati tali operazioni verranno effettuate dalle strutture di Liguria Digitale per l'intera giornata di sabato 24 e proseguiranno per l'intera giornata di domenica con specifici test in collaborazione con le strutture tecniche di tutte le ASD e di Alisa il personale delle strutture tecniche e di servizio di Liguria Digitale sarà operativo dalle prime ore di lunedì 26 marzo e provvederà ad effettuare operazioni di monitoraggio per verificare il funzionamento del sistema prima della riapertura del servizio CUP gli operatori di sportello poi inizieranno a svolgere la normale attività e se tutto procederà come previsto saranno progressivamente attivati gli altri canali di prenotazione col center farmacie specialisti delle aziende e medici di medicina generale fino ad arrivare a pieno regime per quanto riguarda i pagamenti già oggi il cittadino che abbia prenotato una prestazione in una ASD diversa della propria può già utilizzare l'intera rete di quella ASD sportelli farmacie punti gialli oppure può procedere al pagamento online con il sistema ticket web con un semplice colpo di mouse comodamente dall'ufficio o da casa quali sono le dimensioni del fenomeno sul nostro territorio molto preoccupanti le palme sono elementi fondamentali per il paesaggio ligure sono presenti nella nostra regione da centinaia di anni e il punteruolo è arrivato recentemente e sta falcidiando le palme del nostro territorio quindi se non si fa nulla le palme sono destinate a morire rapidamente è molto aggressivo questo coleotero sì direi di sì perché le palme a differenza di altre piante hanno un'unica gemma apicale il coleotero in pratica quando si insinua nella gemma apicale e la divora provoca la morte della pianta quindi possiamo definire le palme come piante estremamente delicate sotto questo punto di vista e quindi destinate a morire se non si fa qualcosa se la palma deve essere abbattuta provoca dei costi ci sono delle soluzioni però preventive che costano molto meno sicuramente ci sono dei trattamenti è necessario installare un tubo per irrorare la chioma proprio della pianta soprattutto l'apice che è il punto debole diciamo di queste piante e quindi io e i miei colleghi interveniamo pulendo la palma e installando questo tubo così che da sotto poi dalla base si possa tramite delle pompe particolari spingere su fine in chioma questo prodotto che aiuta la pianta a combattere questo parassita importante anche passare la cultura della prevenzione il Marsano in questo caso educai quindi che saranno gli agronomi e gli agrotecnici del domani c'è anche l'attenzione su questi temi sì assolutamente i nostri ragazzi sono molto attenti a questi temi e da anni comunque sono protagonisti nella gestione del verde urbano e abbiamo fatto numerosi interventi anche nei parchi di Nervi a Staglieno e in altre realtà comunque della loro città quindi sono molto coinvolti c'è richiesta di competenze di questo tipo da parte dei settori dove sono poi impiegati sì assolutamente c'è molta richiesta infatti il dispiacere è un po' una contrazione delle iscrizioni quando in realtà c'è molta richiesta di queste figure lavorative siamo così arrivati alla giornata di sabato il tema principale è stato quello del lavoro con il convegno che si è svolto all'adductorium San Francesco di Chiavari che ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti di istituzioni ma protagonisti in questo caso sono stati gli studenti con le loro idee e le loro proposte parleremo di questo ma anche della situazione della galleria di Sant'Anna Sestlevante prenderà via infatti in settimana la conferenza dei servizi che dovrà portare avanti il progetto di potenziamento della scogliera antistante proprio alle stesse gallerie sentiamo è una realtà dinamica non ripiegata e animata da giovani soprattutto quelli liguri ben lontani dalla logica dei cosiddetti bamboccioni questo in sintesi il quadro emerso dal convegno giovani e lavoro ospitato all'auditorium San Francesco di Chiavari la realtà giovanile presente sul territorio ha forti potenzialità spesso non supportate da adeguati mezzi sono in molti casi una generazione digitalmente come dire formata quindi sono capaci di presentarsi a tutti i livelli attraverso i social attraverso altre cose però non riescono a incrociare un mondo del lavoro che appunto è più appartenente al passato che al presente quando questo matching questo incontro avviene guidato aiutato da professionisti da persone competenti ecco che il giovane può esprimere tutta la sua potenzialità e questo è il grande aiuto che come Chiesa ci sentiamo di fare il dibattito ha preso avvio dall'analisi condotta da SVG agenzia di ricerca su un campione di 683 ragazzi delle scuole secondarie di Chiavari scelti tra licei e istituti tecnici professionali mentre la maggioranza dei giovani italiani è spaventata dalle innovazioni nei giovani Liguri c'è una buona capacità di accettare la sfida dell'innovazione dell'industria 4.0 dalla società che viene allo stesso tempo ci sono preoccupazioni forti sul futuro soprattutto sul tema della qualità del lavoro e tutto il processo che noi abbiamo analizzato sull'alternanza scuola-lavoro soddisfa in modo particolare i ragazzi degli istituti professionali però lascia molto delusi i ragazzi dei licei il 42% dei ragazzi interpellati si dice in attesa le preoccupazioni dei giovani chiavaresi si concentrano sull'incertezza di un futuro lavorativo 45% di un lavoro stabile 41% o che consenta un giusto tenore di vita 27% tra le matricole vincono la gioia e la fiducia la prospettiva di un'esperienza lavorativa all'estero deve essere vista come bagaglio culturale importante ma non definitivo consiglio ai giovani di allargarsi nel mondo di far sì che non siano più isolati come è stata la nostra regione per tanto tempo bisogna allargarsi al mondo andare in giro vedere come funziona il mondo fuori dopodiché con questa esperienza ritornare e fare una regione grande è importante però poi ritornare assolutamente sì io sono ritornato un po' tardi ma sono ritornato anch'io ANAS è in attesa della valutazione di impatto ambientale dopodiché nei prossimi giorni si riunirà alla conferenza dei servizi per il via libera al consolidamento della difesa amare muove passi in avanti il progetto di messa in sicurezza della scogliera a protezione delle gallerie di Sant'Anna i dettagli erano stati presentati a gennaio dal coordinatore di ANAS per la Liguria Lamberto Nicola Nibbi previsto l'inserimento di nuovi scogli per smorzare l'impatto delle onde sempre più pericolose per la viabilità ora il progetto entra nella sua fase finale poi procederà dopo la conferenza dei servizi con la gara d'appalto e quindi con l'affidamento dei lavori quando sarà realizzato questo lavoro che insomma occorreranno un paio di mesi per poi di lavoro effettivo consentirà di non chiudere più le gallerie in caso di mareggiate importanti come è accaduto alcuni giorni fa intanto l'amministrazione di Sestri Levante sta per partire con il ripascimento di tutti gli arenili una pulizia straordinaria in vista del ponte Pasquale alvia anche la sistemazione della spiaggia di Borgo Renà prima delle gallerie di Moneglia colpita dalle mareggiate di quest'inverno faremo un ripascimento in modo da essere pronti in due fasi a essere pronti per la Pasqua e poi c'è la previsione di un'integrazione di un recupero nel caso in cui dovessero arrivare ulteriori mareggiate sempre riferito a Renà abbiamo dato un incarico in questi giorni il perfezionamento degli atti per uno studio più strutturale che vada ad elaborare gli interventi necessari anche in modo modulare per arrestare o almeno rendere meno pesante questa erosione dell'arenile che si caratterizza ogni volta che c'è una mareggiata quando avremo pronto questo lavoro ovviamente chiederemo agli enti superiori in particolare a regioni e a ministero di sostenere l'amministrazione perché si tratterà di investimenti molto molto rilevanti siamo così arrivati al termine di questa elezione del Tg guardando la settimana spazio adesso al nostro approfondimento che è dedicato a Papa Francesco in settimana infatti si è festeggiato il quinto anniversario dell'elezione del Pontefice venuto dal Sud America vedremo proprio i momenti più importanti del suo al momento fino ad oggi del suo pontificato vi lascio dunque a questo approfondimento il Tg guardando la settimana torna fra sette giorni grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata fratelli e sorelle buonasera Dio mai si stanca di perdonarci mai e Padre qual è il problema? il problema è che noi ci stanchiamo di chiedere perdono non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio e che anche il Papa per esercitare il potere deve entrare sempre più in quel servizio che ha il suo vertice luminoso sulla croce non dimentichiamo non dimentichiamo Grazie a tutti. Non lasciatevi prendere mai dello scoraggiamento. La nostra non è una gioia che nasce dal possedere tante cose, ma nasce dall'avere incontrato una persona, Gesù, chi è in mezzo a noi, nasce dal sapere che con Lui non siamo mai soli, anche nei momenti difficili. E per favore, non lasciatevi rubare la speranza. Grazie a tutti.